Ad oggi a Sciacca e nell'Interland non sono stati accertati casi di positività al Covid all'interno delle scuole, ma si teme che ciò possa accadere alla luce della curva in rialzo dei contagi un po' in tutti i comuni. Preoccupati sia i dirigenti scolastici sia i primi cittadini, che stanno provando a garantire la maggiore sicurezza possibile all'interno degli edifici scolastici. Ieri pomeriggio i sindaci di Sciacca, Francesca Valenti, di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, di Menfi, Marilena Mauceri e di Santa Margherita di Belice, Franco Valenti, hanno chiesto ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado di valutare l'attivazione della DID, Didattica Integrata Digitale. Negli ultimi giorni, si legge nella lettera dei primi cittadini firmatari, sono emerse criticità legate sia al trasporto degli studenti pendolari, sia ai focolai di contagio che stanno interessando in particolare alcuni comuni. Pur non palesandosi ad oggi uno stato d'allarme che imponga l'adozione di specifiche misure restrittive, i sindaci hanno pertanto chiesto ai presidi degli istituti superiori di evitare la frequenza in presenza degli studenti pendolari, attivando per loro la didattica a distanza. I dirigenti scolastici degli istituti superiori di Sciacca hanno immediatamente accolto l'invito dei sindaci di Sciacca, Sambuca, Santa Margherita e Menfi. Pertanto, questa mattina i ragazzi che avrebbero dovuto spostarsi da un comune all'altro per andare a scuola sono rimasti a casa ed hanno teoricamente eseguito le lezioni tramite dispositivi digitali. In più, la dirigente scolastica dell'istituto amatovetrano, Caterina Moulet, aveva già disposto due giorni di chiusura, oggi e domani, per una pulizia straordinaria e una igienizzazione approfondita dei locali scolastici frequentati dai ragazzi degli indirizzi agrario ed alberghiero. Decisione che scaturisce dal fatto che lunedì 19 ottobre saranno attivate le classi aggiuntive e avranno inizio le esercitazioni laboratoriali. L'attività scolastica, dunque, oggi e sabato, era già previsto che sarebbe stata effettuata per tutti gli studenti con la didattica a distanza, riprendendo in presenza lunedì prossimo. A queste decisioni seguiranno ulteriori incontri tra dirigenti scolastici e primi cittadini per valutare insieme il da farsi per i prossimi giorni, fin quando, ad esempio, far seguire le lezioni da casa agli studenti pendolari, se provvedere in tutte le scuole ad effettuare una sanificazione approfondita dei locali, se attuare delle misure aggiuntive, oltre a quelle già disposte, per evitare che il virus possa diffondersi tra i banchi di scuola. È una situazione anomala quella che devono affrontare non solo i primi cittadini e i dirigenti scolastici, ma anche studenti, famiglie e personale scolastico tutto. C'è da capire e valutare nei prossimi giorni quanti contagi si registreranno nel territorio. Accertato il fatto che gran parte dei contagi avviene tra le mura domestiche, occorre fare attenzione in primis ai comportamenti assunti da bambini e ragazzi fuori dalle scuole, ma bisogna allo stesso tempo evitare che uno studente positivo possa contagiare altri compagni di classe. Si attendono dunque novità a breve per capire come fronteggiare nelle scuole la nuova ondata dell'epidemia ad oggi in corso.